In vista della riapertura delle scuole in programma per settembre, la regione Abruzzo sta cercando di accelerare il più possibile la campagna di vaccinazione, in particolare su giovani operatori scolastici che non si sono ancora vaccinati. Come anticipato dal quotidiano Il Centro, sono numerose le iniziative rivolte in particolare sulla facilità 12-19 per allettare a vaccinarsi in vista della riapertura delle scuole, tema in cima alle priorità della campagna vaccinale. Tra le iniziative c'è anche quella di regalare biglietti gratis per le partite della squadra del cuore ai giovani abruzzesi che si vaccinano. Bisogna cercare un po' tutte le formule per spingere i giovani a vaccinarsi, giovani che si stanno vaccinando, la categoria 17-19 in Abruzzo siamo al 100%, bisogna lavorare un po' sui 12-17, ma lo stiamo facendo, poi cercheremo di mettere iniziative culturali e sportive in campo per fare in modo di incentivare questi ragazzi alla vaccinazione, ma non solo i ragazzi, anche i docenti e non docenti che non si sono vaccinati. Secondo lei traslare di una settimana la riapertura delle scuole può servire? Questa è una cosa che non tocca a me dirla, perché ci sono gli assessori, è un aspetto organizzativo dell'aggiunta politico. Io dico che in queste settimane che abbiamo dobbiamo fare il massimo per far vaccinare il maggior numero di persone, poi magari potrebbe servire anche un mese, due mesi, perché tutti si vaccinano e magari questo non succederà. Abbiamo un po' di tempo davanti, utilizziamolo per vaccinare il maggior numero di persone in questo arco di tempo, poi vedremo. La cosa che preoccupa però sono segnanti che non si vogliono vaccinare. Ma non sono tanti, è un po' lo zoccolo duro, perché noi gli insegnanti ne abbiamo vaccinati tanti già da primavera. Adesso c'è uno zoccolo duro, anche se qualcosa si sta muovendo e qualche insegnante comincia, in qualche modo viene al lab oppure telefona per chiedere di essere vaccinato. Ci sono quelli che hanno fatto una sola dose e li stiamo invitando a fare la seconda dose, perché è possibile fare la seconda dose e perché si può fare, anche a distanza perché rappresenta comunque un nuovo stimolo. Possiamo dire che sarà un rientro in sicurezza per quello che sarà possibile? Ma io credo di sì, insomma, comunque la vaccinazione l'abbiamo fatta, la maggior parte dei centri sono vaccinati, i ragazzi si stanno vaccinando, cerchiamo, ripeto, di fare il massimo sforzo in queste settimane che ci separano dall'apertura della scuola, poi vedremo se slitterà o non slitterà questo, ripeto, non è compito mio.